Ciao ragazze, nuovo video, vi faccio vedere il bijou che ho acquistato sabato, cosa? Sabato quando sono stata al mercato che abbiamo vloggato io la mia e mia sorella c'era questo banchetto che avete visto nel vlog che vendeva tutto a un euro, un euro al pezzo ho preso, vogliamo capire la situazione, cioè, va bene, non so se si è visto comunque c'è un cilotto che mi sta facendo, dai amore allora, questi set di orecchini con le cucinelle, l'ho preso per le cucinelle perché mi piacevano tantissimo poi ci sono anche delle perle, dei brillantini, insomma, questi qua mixati, un euro tutti questo bracciale con le perle, con i perlone, perline, col patua chiara che mi ha fatto prendere questo bracciale involontariamente, questo set di rote che probabilmente avevo già, ma non ricordo se ne ha gli stessi colori questo braccialetto carino, tipo le perle e il cuoricino applicato, molto bello questi mega orecchini giganti fucsia, mi sono piaciuti perché sono leggerissimi e di questo bellissimo fucsia che l'estate è bellissimo questo braccialetto che mi ricorda un po' lo stile D&G dolce gabbana, un po' barocco, molto carino, sono quelli rigidi questo anello meraviglioso, un euro, cioè, come quello che indosso, guardate che bello con queste pietre, questo che è molto simile a quello che indosso che ho preso allo stesso posto con il top stupendo anche questo questa collana bianca, perché volevo una collana bianca e non ne ho trovate, insomma di carino ho preso questa, vanno tantissimo queste perline intrecciate questi due bracciali rigidi, chiara, guarda un po' che stavo prendendo da una signora alla fiera vintage non sono belli come quello, però, vabbè, non era neanche vintage quello quindi è questa rosa dorata spero che il video vi sia piaciuto, ragazze commentatevi pure i bijoux, ci vediamo nel prossimo ciao